forse alessandro ghostbuster potenza ce la sta facendo sta portando a compimento cioè la sua improba caccia personale ai fantasmi che da un po troppo tempo aleggiavano inquietanti nello spogliatoio del biton sì perché già dal big match del monterisi pareva essere passata una mano taumaturgica sulle inquietudini del gruppo che da allora ha preso a vincere con buona continuità stavolta a soccombere è stata la virtus matino di mister giuseppe branà fanalino di coda che certo ma ultimamente pure ammazza grandi l'ex campione europeo under 21 sceglie ancora l'usato 3-5-2 e conferma canizzaro tra i pali la maginosa era formata da biason lanzolla e petta nel mezzo stasi e danna sulle fasce più vespigni che mai al centro è monumentale a dai con i vassalli indomiti piarulli e riccardi in attacco capitano lattanzi a due ettare con santoro stesso schema tattico per i salentini con leuci in porta patronelli rantuccio e meola ad innervare il reparto arretrato in mediana gramegna in guscio e tarantino con le scorribande esterne di monopoli e dandria morra e stauciuc le punte avviso ai naviganti sul prato del comunale di ugento presto si abbatterà grandine nero verde primo chicco al terzo danna scodella da sinistra santoro in corna e leuci fa rotolare tremebondo la sfera in rete sei minuti il mattino reagisce con un piazzato di monopoli che la barriera devia nel deserto retrostante alla porta delle oncelli al diciottesimo lattanzio lavora bene il cuoio per addae che sferza dal limite in corsa e raddoppia due occasioni per gli ospiti dopo il ventesimo prima una punizione benefica di danna neutralizzata a fatica da leuci poi un'altra percussione di danna per stasi piatto d'incontro stoppato da andria poco prima della mezza l'immarcabile danna spedisce al bar mezza difesa di casa pennella giro nell'angolo e triplica al trentacinquesimo ci prova piarulli alto ma ne portanto sopra la traversa quattro minuti e canizzaro si oppone a stauciuc che aveva superato biason e lanzolla ancora il tracimante ex fermana al quarantunesimo in rompe in area dal lato manco e calcia una deviazione il palo evitano l'ennesima capitolazione sugli sviluppi dell'angolo addae si inventa un campanile perfido fuori di poco allo scadere geometrico dialogo fra riccardi e stasi con quest'ultimo che trafigge l'estremo difensore di casa con un secco diagonale si riprende e al minuto 28 la virtus accorcia con l'irrefrenabile attaccante rumeno imbeccato dall'ex palmisano che si destreggia ben in area e beffa canizzaro non del tutto incolpevole dopo la mezz'ora rassoterna è scivolata del capitano da fuori si stende e blocca l'euci 180 secondi ancora il puntero andriese artiglia la sfera ma manca il bersaglio grosso ad un sospiro dallo scadere il penalty che sigilla il match trionfale e condanna alla retrocessione i biancazzurri l'imberbe ed esordiente ferrante viene abbattuto da maxim dal dischetto ricky finalmente torna a segnare